Ciao a tutti! E' un'altra nostra ragazza! Allora, oggi facciamo altre quattro sfide Abbiamo sempre la squadra verde Presenta l'Anna Ci siamo io, Bianca e Maria Clara Ok, Mary E la squadra viola Presenta Marti Più forte Ok Allora, oggi non abbiamo fatto i bigliettini Ma Floriana, la vostra splendida maestra Ha pensato a quattro sfide Una per ogni attrezzo Ok, quindi La squadra che vincerà nel pario dispari Sceglierà chi schierare E sceglierà l'attrezzo Ok Poi vi diremo quale sfida fare Avete Lucy che è il jolly di oggi Potete schierarla solo una volta Per ogni squadra Ok Dopo aver saputo Qual è la sfida Pari o dispari Via Vince Anna Ok Prima sfida Scegliete L'attrezzo E chi schierare in quell'attrezzo Deciso? Vai E con il cerchio Sceglierà Ok Mary Cerchio Chi schierate voi? Ok Marti contro Mary Qual è la sfida? Allora Prendete i cerchi Con tre giri Del cerchio Ok Inizia Mary Fai partire il cronometro 3 2 1 Via 1 2 3 4 5 6 Avambraccio 6 Pronta Marti Via 1 2 Avambraccio No No Basta Stop 2 Quindi vince Mary E porta un punto Alla squadra Verde Merde Prima avete scelto voi Quindi ora tocca a voi Scegliete Squadra viola L'attrezzo Che ovviamente Non può più essere il cerchio Palla Palla Schierate Bea Ok Contro Anna Palla Che consiste Nel far rotolare La palla Gambe Braccia Più volte possibili In 40 secondi Senza far cadere la palla a terra Senza poggiare i gambe a terra Inizia Anna Inizia Anna Quanta Via Uno Due Un'altra C'è 삶 Quattro Infine Cin cetta Otton Pezzagli in two Cent mark Lo Di Quattordici. Quindici. Stop. Sedici. Sedici. Vale. Bea devi riuscire a batterla. Uno ogni due secondi circa. Via. Uno. Due. Parcia. No ma però vabbè non è che gli è caduta. No va bene. Quindi secondo punto per la squadra verde. Dovete scegliere voi squadra verde. Potete ancora pareggiare. Allora che attrezzo? Nostro e schieriamo. Nostro e bianca. E poi? Aspettate di sapere cosa bisogna fare. Schiera una e poi se proprio non puoi schierare Lucy. Allora sarebbe Emi contro bianca. Poi vediamo. Adesso sentite cosa c'è da fare. Dopo al massimo cambiate. La sfida con il nastro consiste nel fare tre protezioni. Il braccio con il chapea riprende il tuo tiruto di lavoro. Ok spiega cos'è le chapea perché chi non... Non so se è la protezione della bacchetta in aria. Ok. Deve fare un giro completo. Bianca. Bisogna fare tre giri. Bianca. Sì. Tre giri e uno. Aspetta che ti dà il via Floriana. Via. Attento. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette Otto Stop Questo vale perché era in aria Nove Pronta Lucy? No Vai un pochino più in là Sennò non ti riprendo Pronta? Tre, due, uno, via Uno Tre, due, due Tre Quattro No Questo è il nostro Stop Vince Bianca Squadra Verde Siete già a tre Facciamo l'ultima Squadra viola Fatevi rivalere con la fune Decidete chi schierare Chi schierate squadra verde e chi schierate squadra viola Con la fune Aspetta Anna contro Bea Allora La sfida della fune consiste nel fare cinque salti in avanti ai piedi uniti E collegare subito le rotazioni della fune Una volta mano destra e una volta mano sinistra Tante rotazioni Chi ne fa di più in 40 secondi Inizia Anna Via Una Due Due Quattro Quattro Cinque Sei 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 per Anna Via Un Due 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 Tre Quattro Quattro Cinque Cinque Sette Stop Sette Vince un punto La squadra viola Tre Uno Lasciateci un commento Anche se mi bruciano gli occhi Vi accendeteci in guarda like per ogni un altro video Ciao 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 Ciao